Questa di Largo Inghilleri era un'area già interessata da demolizioni, con questa completiamo le demolizioni nel costone Inghilleri. L'ultimo manufatto che rimane sarà riqualificato e restaurato per bene secondo un progetto che è già stato approvato dall'amministrazione comunale. Non ci fermiamo qui con le demolizioni perché andremo innanzi laddove ci sono manufatti che non sono di nessun pregio florico, ma anche culturale che si evita una condizione di pericolo e si crea ricodificazione urbana. Qui in maniera particolare si trattava di case, davvero di nessun pregio storico, che continuavano ad essere abitate in una condizione di gravissima precarietà. Non ci abbiamo messo mano evitando anche situazioni di pericolo. Sono anche importanti novità per quanto riguarda il dragaccio del porto e pedoclino. L'Enel si farà carico durante dei lavori per portare i pontali da 8,70 a 14 metri. A 14 metri è un'operazione che riguarda tutta la rada ingresso porto. Da lì verranno trattate delle sabbie vergini che sono state con volumi veramente cospicui. Queste sabbie sono state già analizzate secondo il piano di carotaggio che è previsto dal manuale dell'ICRAM. Sono delle sabbie vergini e potranno essere ben utilizzate per il ripascimento delle spiagge san leonine. Marco Zambuto credo che abbia compreso appieno l'utilità di questa operazione e mi fa piacere che si realizzi una bella sinergia con il comune di El Dijeno. Riqualificazione del centro storico, il dragaccio del porto e pedoclino, rigassificatore. Da questo parte il rilancio definitivo del porto e pedoclino. Questo è altro ancora perché io penso alla catena del freddo che sarà connessa all'impianto di rigassificazione e lì veramente ci sono volumi di un tipo commerciale e di valore aggiunto sul piano delle risorse umane impegnate e notovissime.